Allora facciamo un altro, va bene? 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 Allora... 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 Allora facciamo un altro, va bene? 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 Allora... Allora facciamo un altro, va bene? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho rivisto la piazza, ho rivisto un po' di cose che mi erano veramente molto care. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Ci sono dei libri qua, se a qualcuno può interessare. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.